Speriamo che sia una bella manifestazione, una piccola garetta sociale e speriamo che più che altro che loro si divertano e che i genitori siano contenti del risultato dei loro figli. Non è una gara agonistica, è una gara fra di noi diciamo, ci sono dei ragazzi che vanno dal 99 fino a arrivare al 2005. Il ragazzino qui a fianco è mio padre, è stato atleta. Questa è la medaglia che ho vinto ai campionati italiani del 71, erano i campionati italiani cinture marroni che da marrone che arrivava nei primi tre passava nera. Grande soddisfazioni, bei ricordi purtroppo che sono ricordi. Questa passione i ragazzi lo sentono, la trasmetti, loro la acquisiscono e ti seguono e te devi essere per loro un fattore veramente, un valore aggiunto. Noi abbiamo avuto due campioni italiani, oggi dovrebbe arrivare, premiamo la prima medaglia ai campionati italiani del 75 che ha fatto secondo. Abbiamo due campioni italiani che sono stati convocati in nazionale, sono Magnano e Gariboldi e come società abbiamo fatto seconda agli italiani a Monfalcone nel 1985. I prossimi appuntamenti ci saranno delle qualificazioni per i campionati italiani di categoria ai quali speriamo di partecipare con gloria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.